L'ultimo progetto a cui ho lavorato è le avventure di Sherlock Dog, che sono le avventure di uno Sherlock Holmes, in formato antropomorfo, di un animale antropomorfo e per la Giunti, per la casa editrice Giunti, questo è quanto. Un personaggio che avrei sempre voluto disegnare è Batman, sin da quando ero bambino. Eh, spero di riuscirlo a fare prima o poi, mettiamola così. La prossima storia a cui sto lavorando è il libro illustrato di Ralph Spaccatutto 2 per la nostra beneamata Disney. Cercheremo di fare un buon lavoro.